Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi siamo a Paciano in Umbria uno dei borghi più belli d'italia per visitarlo appunto un po e insomma scoprirlo iniziamo subito questa qui è porta perugina e da questa porta si accede al centro qui invece troviamo porta fiorentina e piazza notteotti qui c'è la chiesa di San Carlo e qui invece troviamo la chiesa di San Giuseppe e questa è la piazza principale ecco qua ci siamo spostati da Paciano uno dei borghi più belli d'italia a Panicale un altro dei borghi più belli d'italia sempre che non vengono lontanissimo questa qui è la mappa di Panicale e adesso andremo a visitarlo e facciamo subito direi che senza dubbio che questa è la piazza principale è veramente bella andiamo a vedere la fontana al centro ecco qui la fontana e sempre tutta la piazza e adesso proseguiamo di là ecco qui qui la piazza da cui siamo arrivati questa è l'altra piazza del centro con la chiesa e questi palazzi tipici e caratteristici questa è siamo in piazza o siamo in cede questo è il nostro giro il mio signor gatto c'era continuiamo anche dopo aver visto il signor gatto ecco qui il balcone sulla ballata e poi di là si vede anche il lago Trasimino sempre da un balcone come questo proseguiamo qui siamo in piazza Masolino piazza del Podestà e lì è dove eravamo prima per intenderci e da qui più in alto riusciamo a vedere da in fondo lontano il lago Trasimino questa intanto è la piazza e qui c'è il fantastico palazzo del Podestà altro signor gatto ciao anche a te ecco per questo piccolo piccolino veramente carino ritorniamo in piazza San Michele ora appena metto il fuoco con la luce ecco qui la chiesa quindi ragazzi siamo tornati nella piazza per questo video era tutto se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video ciao a tutti grazie